Eccomi qua, buongiorno a tutti, video formativo dove andremo a parlare, dove vi racconterò delle bellissime novità riguardanti il nuovissimo album 12 in vigore da oggi fino al 1 di ottobre. Andiamo a vedere insieme subito subito quali sono le novità eccezionali di questo nuovo album. Intanto vi dico subito, retro copertina, provate il sommario con le cosine più preziose da sapere con tutte le novità. Io mi soffermo subito su questa novità Sebo Vegetal perché è stata cambiata, è stata rinnovata nel packaging ma soprattutto è riformulata. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che il principio attivo all'interno del prodotto è cambiato, adesso è la polvere di tè borreale, è un principio attivo 100% di origine vegetale interamente sviluppato dai nostri laboratori e brevettato in Francia per la sua efficacia sulle pelli grasse. Quindi nello specifico vi dico che ho avuto già l'onore di provare il nostro gel detergente e mi sono trovata veramente bene, infatti è uno dei miei must have sul lavandino e vi volevo far vedere anche per esempio a pagina 8, non si vedeva, la formula bifasica di questo nuovissimo prodotto che è un tonico effetto cipria opacizzante perché è specifico essere formula bifasica. Ce l'ho qui, spero che si veda perché è un prodotto dove va sicuramente agitato perché vedete che in fondo c'è un residuo, ecco perché si chiama formula bifasica perché va agitato prima dell'uso, va tamponato, non va messo ovviamente negli occhi ed è un prodotto trasversale che si può utilizzare tranquillamente anche con le altre linee. Quindi va agitato affinché la lozione e la polvere si mescolino perfettamente, va applicato tamponando su tutto il viso e poi dopo ovviamente va idratata la pelle con o la crema della Sebo Vegetal, quindi della stessa linea, o comunque una crema anti-rughe, quindi le andiamo a vedere successivamente. Vi volevo far vedere appunto come si va a miscellare questo prodotto prima del suo utilizzo. Guardate che meraviglia! Quindi questo è un tonico più micropolveri, bellissimo! Poi andiamo avanti, quindi vediamo la nostra crema, il gel crema a zero difetti, quindi mi raccomando prima andiamo sempre a trattare la pelle, a pulirla e a purificarla per poi solo successivamente andare a idratare con la crema o il gel crema. Ci sono tantissimi altri prodotti appunto della linea Sebo che come vi dicevo è tutta riformulata, quindi con questo tè borreale e vi dico che è una pianta, questa polvere di tè borreale che viene dal Canada ed è famosissima perché riesce a riequilibrarsi e riequilibrare il terreno quando avviene uno shock termico. Ecco perché è indicato per le pelli comunque misse a grassi. La lucidità sarà veramente KO. Grazie anche a un prodottino nuovo nuovo che è il nuovo correttore appunto per i bruffolini che è il nostro remake dell'SOS Anti Imperfezione. È una textura assolutamente leggera e lo troviamo a pagina 11. Vedete questo prodottino qui? Anche questo è una bellissima novità di questo album e è ideale anche come base per il trucco. Un'altra bellissima novità di questo album, oltre alla linea della Sebo, c'è la linea della Sebo Pur Vegetal. Quindi la nuova linea della Pur System. Quindi la Pur System non c'è più e sarà sostituita da questo Sebo Pur Vegetal. Ok, sempre polvere di tè borreale in aggiunta all'acido salicilico vegetale che agisce sulle imperfezioni della pelle grazie alle proprietà antibatteriche e purificanti. Vi dico che ho già avuto l'onore di provare la nostra maschera, quindi della Sebo. È una maschera in argilla con caulino. Questo è un consiglio che vi do, i miei consiglieri di bellezza. Non consigliatelo perché va di moda, ma consigliatelo ovviamente e solo alle persone che hanno una pelle da purificare. Quindi non è adatto a tutti, ok? Per pelli miste e grasse questo prodotto è top. Io ho già avuto l'onore di provarlo, è una maschera libera pori al carbone, quindi con acido salicilico, vi dico che è fotonico. Mi è piaciuta un sacco e subito dopo proprio avevo la grana della pelle completamente diversa da prima, che io tendo proprio al lucidino, soprattutto nella zona T, e quindi questo mi ha aiutato un sacco e può essere utilizzata al bisogno una o due volte a settimana. Io l'ho utilizzata per adesso una, la settimana scorsa, e non sento ancora il bisogno di rifarla, quindi prodotto veramente top. Quindi, libera i pori e riduce punti neri, come tutta la linea ovviamente della Sebo Pur Vegetal che vediamo nelle pagine successive. Ok? Mi raccomando, la Sebo Pur Vegetal è per una pelle un pochino più problematica, quindi se non ha tantissime imperfezioni la signora, o comunque ha una pelle mista e grassa e bassa, andiamo a consigliare lo step prima, quindi la linea Sebo. Se invece vediamo che ha proprio bisogno di un trattamento un pochino più strong, va bene la Sebo Pur Vegetal. La Sebo Pur Vegetal è consigliata anche per tutte le persone un pochino più giovani, quindi il target delle millennials, dove c'è la pelle magari con brufoletti, punti neri, pelle appunto a tendenza acneica che ha bisogno di essere idratata, ma nello stesso tempo tenuta sotto controllo. Quindi linea Pur System è linea giovane, ma linea anche uomo. Mio marito si trova benissimo, quindi la consiglio davvero a tutti gli uomini che molto spesso non usano i trattamenti, ma bisogna istruire anche loro, perché la loro pelle tendenzialmente è più delicata e va trattata un pochino di più appunto della nostra. Quindi andiamo a consigliare anche a tutti i nostri uomini il trattamento più giusto. Se avete bisogno dei consigli, ovviamente ci sono tutte le nostre consigliere di bellezza a disposizione. Andiamo avanti. Linea Sensitive, quindi la troviamo a pagina 16-17, per chi ha una pelle che ha bisogno un attimo di essere riequilibrata, una pelle molto soft, che non ha bisogno di tanti trattamenti e quindi tende ad arrossarsi facilmente, tende proprio a cambiare coloro. Quindi c'è bisogno di un prodotto molto dolce, molto tranquillo e quindi linea Sensitive Vegetal è perfetta. Pagina successiva, linea Idra Vegetal, quindi pelle da normale a secche, con tutto il nostro trattamento ovviamente idratante e detergente. Nonché a pagina 21 troviamo le nostre maschere. Maschera rivitalizzante, maschera luminosità e maschera purificante. Queste maschere sono stupende anche perché si possono miscelare, mixare tra di loro. Quindi si può utilizzare per esempio nella zona T la crema purificante, scusate la maschera purificante, e magari nelle guance la maschera luminosità. Quindi si possono proprio mixare. È veramente una novità molto bella. Mi sono sempre piaciute dal primo istante in cui le ho viste. Andiamo avanti. Sempre viso linea Purcanil. Vi ricordo che è una delle linee proprio top della nostra azienda Idra Vegetal. La camomilla ovviamente è bio, quindi anche questo magari bisogna dirlo. Coltivata nei nostri campi alla Gassili. Come il nostro fiordaliso. Pagina successiva. Il fiordaliso bio utilizzato nel nostro struccante. Struccante occhi bifasico, che strucca anche il trucco waterproof, è meraviglioso. Essendo formula bifasica proprio come questo, bisogna miscelarlo, quindi sempre agitarlo prima dell'uso. Mentre invece questo è per occhi sensibili, quindi occhi che hanno, magari alla sera grattano, hanno bisogno comunque di un trattamento un pochino più delicato. Quindi abbiamo un nostro struccante occhi delicato. La nostra BB cream, piuttosto che i nostri balsami labbra, che servono sempre per ogni stagione, soprattutto d'estate, ma anche d'inverno. Quindi fatene scorta, mi raccomando. E poi andiamo ovviamente alle creme viso anti-età. Quindi tutto quello che vi ho raccontato fino adesso di detergere e appunto idratare è per una pelle comunque giovane, ok? L'idratazione, quando si raggiunge 30-35 anni di età, deve essere anche un pochino più specifica per l'antirughe. Ed ecco che abbiamo sviluppato proprio dei prodottini, ad esempio in questo set dell'Elixir Jeunesse, dove appunto va benissimo questo set detox per un'età compresa dai 30 ad andare in su. È una linea trasversale, quindi può essere anche utilizzata da persone di una certa età. Quindi ogni volta che utilizzano due o tre vasetti della sua solita crema, della crema solita, possono utilizzare per cambiare principio attivo e utilizzare appunto l'Elixir Jeunesse. L'anti-age global, l'ultimissima novità in casa di Everochet per quanto riguarda creme e trattamenti viso, ve lo dico, è super 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 buona. Utilizzatela, fatela provare, anche questa va bene dai 30-35 anni in su. È meravigliosa, con un profumo proprio di lilla, di fiori, di bocciolo, di natura. È stupenda. Rich Creme, pagina successiva, per le pelli è abbastanza molto secche, quindi è proprio la crema e i trattamenti più nutrienti che ci sono. Olio di mille rose, rigenerante, quindi il target di persona è molto alto, dall'incirca dai 50 anni, ma anche di meno, se vedete che una persona ha la pelle estremamente secca. Ok, poi linea serum rossa, quindi vediamo il cambio di colore per quanto riguarda la linea serum, che varia, vedete questa è arancione, che varia a seconda dell'età di riferimento della persona. Quindi rossa dai 40 anni in su, arancione dai 50 anni in su, e poi c'è questa salmone dai 30 anni in su, quindi linea, accesso, antirughe, utilizziamo questa. Quindi per ogni età andiamo a dare, consigliare le cremine giuste, mi raccomando. Ok, poi passiamo invece al maquillage, al make up, il regalo, la trussa ogni 25 euro di acquisto in prodotti maquillage. Ditelo, ditelo alle vostre signore perché avranno questo in omaggio, in tessuto e cru, con i bottoncini di legno, quindi super act beautiful, anche dei nostri gadget e accessori, che vi ricordo sono omaggio. Quindi senza codici da inserire, vi riceverete direttamente nel pacco ogni 25 euro di acquisto in prodotti maquillage, da pagina 41 a pagina 65. Poi, pagina 41, mi raccomando ragazze, i codici. Quando ci sono le promozioni, dobbiamo leggere bene 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 come sono fatte, per non sbagliare e per guadagnarci ovviamente, non rimetterci dei soldini, o comunque farvi sempre arrivare i prodotti. Quindi, per avere la cipre opacizzante pelle perfetta scontata a 6 euro, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere il codice giusto con la L, quindi un codice nero e un codice rosso, mi raccomando. Quindi, un fondotinta a scelta da pagina 42 a pagina 45, e quindi lì andiamo a vedere, andiamo a scegliere la tonalità, mettiamo il codice giusto, e poi successivamente per avere la ciprea a 6 euro, dobbiamo mettere il codice con la L, per quanto riguarda la tonalità giusta della signora. Perfetto, è tutto chiaro, il codice nero del fondotinta presente a scelta da pagina 42 a pagina 45, e il codice con la L, per aderire all'offerta della ciprea a 6 euro. Ok, ci siamo. Poi, quindi, nelle pagine successive vediamo ovviamente tutti i fondotinta, che variano a seconda della tipologia di pelle, quindi andate bene bene a leggere le descrizioni sempre, e l'effetto coprenza che vediamo segnalato con i pallini. Quindi, se c'è una pelle con tante imperfezioni, andremo a consigliare un determinato fondotinta. Se abbiamo una pelle molto giovane, che non ha imperfezioni, andremo a consigliarne un altro. Se una persona ha la pelle secca, ne dobbiamo consigliare uno giusto. Quindi, affidatevi sempre alle vostre consiglieri di bellezza, alle vostre capogruppo e alle vostre responsabili. Ok. Dopodiché, ovviamente, fondo correttore. Questa è la linea del make-up. Correttore. Poi dopo c'è il fondotinta che bisogna mettere. Successivamente bisogna mettere la ciprea, che appunto troviamo in sconto a 6 euro, che serve per opacizzare e fissare, ovviamente, il fondotinta. Perché molte persone questo passaggio non lo fanno, e il fondotinta viaggia per la pelle, e magari fa anche delle chiazzette, perché ovviamente non è fermato da niente. La ciprea serve proprio per fermare e dire, oh, fondotinta, stai lì e dura tutto il giorno. Quindi mi raccomando, anche questa notizia diamola sempre. Quando vendiamo il fondotinta, dite di acquistare anche la ciprea, e ovviamente andiamo a spiegare sempre il motivo. Mi raccomando. Poi, andiamo avanti, Sì, troviamo le nostre stilocchi waterproof, che ce li ho negli occhi. Sopra ce l'ho nera, sotto ce l'ho blu. Le amo follemente, quindi se vedete l'effetto e vi piace, ve le consiglio, ci sono un sacco di colori, e io mi diverto proprio a mixare. Molte volte faccio anche sotto la riga nera, un po' sfumata col blu, cioè proprio mi diverto, perché io adoro il colore, e di conseguenza queste stilocchi waterproof, perché poi piango un sacco, mi emoziono veramente sempre molto, e di conseguenza ho bisogno di un trucco abbastanza strong, quando so che ci sono questi avvenimenti. Ok, poi, mattitoni, poi ne andate a sfogliare tranquillamente l'album, adesso vi racconto veramente velocemente un po' di tutto. I nostri mascara, quindi a seconda anche qui, di come lo volete, dell'effetto che volete, del finish che desiderate ottenere, andiamo a leggere le descrizioni, e andiamo a consigliare il mascara con lo scovolino giusto, perché anche a seconda proprio della ciglia, c'è lo scovolino più corretto. Anche qui, schede formativi a noi, e andiamo veramente a leggere tutto. Allora, nell'inserto centrale, vi voglio parlare anche di questa bellissima novità, che riguarda Yves Rocher, tutto il discorso profumi, quindi inserto centrale a noi, vi dico che è nata l'esigenza proprio di rifare una linea profumi, proprio perché hanno fatto un sondaggio, e hanno visto che le persone rispondevano, che più che altro non compravano i profumi della Yves Rocher, perché non ne trovavano uno che rispecchiasse la propria personalità. Quindi, forte di questa cosa, si sono messi all'opera, e hanno creato un sacco di nuovi profumi, quindi questa è la nuova linea, e la nuova collezione. Vi dico già che sono disponibili in due formati, quindi uno da 30 ml, e l'altro grande da 100 ml, proprio come nelle profumerie. Ci sono veramente un sacco di prodottini, e vi dico che acquistandone uno, in regalo vi arriverà anche questo cofanetto, con tre fialette, per veramente per collezionarli tutti, per sentirli tutti, per farli assaggiare tutti, quindi veramente veramente top. E poi dopo nelle pagine successive, ci sono tutte le descrizioni, con le note di testa, le note di cuore, le note di fondo dei nostri prodotti. Quindi siamo sempre il top, e ci miglioriamo sempre. Bene, andiamo avanti, continuiamo col make up, quindi il rossetto a non finire, finish, di come li vogliamo, veramente per tutte le esigenze, e per tutte le voglie. I nostri smaltini, immancabili, anche qui, 3 ore 95. Andiamo avanti, mi raccomando, quando ci trucchiamo, cerchiamo di utilizzare sempre, i pennelli corretti, quindi c'è la pagina proprio dedicata, andiamoli a studiare, andiamoli a guardare, cerchiamo di utilizzarli, soprattutto per una questione anche batterica, mi raccomando. Poi nei trattamenti corpo, ci sono i trattamenti per i nostri piedini, per le nostre mani, quindi va davvero, c'è di tutto. sono 800 prodotti in tutto, che non vedete tutti sull'album, perché non ci starebbero, quindi ogni 3 settimane, abbiamo una carellata di prodotti, da poter guardare, utilizzare, provare, studiare, eccetera. il Monoi, come vi facevo vedere, è la mia linea super preferita, fiori di Thierry Young Young, noci di cocco e vaniglia, qualcosa di sublime, proprio di estivo, ma in realtà, io lo uso anche a dicembre, ormai lo sanno tutti. Ok, complementi alimentari, quindi la linea Sant'E Naturel, che nei negozi non c'è, quindi l'abbiamo solo noi, dove appunto si parla di detox, dei filini perdita di peso, riducenti, eccetera, eccetera, quindi per ripartire in forma, in questo settembre, poi i profumi, diciamo, classici, che sono rimasti, nelle linee precedenti, e i profumi uomo, che sono stupendi, quindi vi invito veramente a provarli, poi nelle pagine successive, tutti i trattamenti capelli, con shampoo, balsami, trattamenti, con tutto, proprio le nuove, la nuova linea, che abbiamo studiato, già da due album, quindi, linea nuovissima, linea riequilibrante, proprio è uno shampoo, trattamento, shampoo, trattamento, a seconda della tipologia, del cappello, e di come li vogliamo, ovviamente, ci sarà la linea, adatta a te, quindi veramente, un sacco, un sacco, un sacco di prodotti, nonché, le plaisir nature, quindi andiamo a vedere, reparto, bagno doccia, latte, corpo, di tutte le profumazioni, ma davvero un sacco, quindi abbiamo, per esempio, l'argan e le rose, piuttosto che noci di cocco, piuttosto che vaniglia, piuttosto che, per esempio, il mango coriandolo, cioè, veramente, di tutto, con anche relative, acque profumate, quindi, anche qui, andiamo a vedere, veramente, a seconda della fragranza, che vogliamo scegliere, tutta la linea, profumatissima, che veramente, vi inonderà, e vi inebrierà, ok, mi raccomando, dulcis in fundo, 2, per 6,95 euro, il sapone, liquido, per le mani, non deve mancare, nei nostri bagni, e nelle nostre attività commerciali, mi raccomando, quindi, come si attiva questa offerta, esattamente, come per il fondotinta, e la cipria, un codice nero, e un codice rosso, quindi, facciamo un esempio, scelgo questi due, sensuale, ed esotico, vaniglia barbon, codice 50, 193, quindi lo inserisco, nell'ordine, il codice sotto, non deve essere, quello nero, ma deve essere, quello con la L, codice L, 59, 0, 5, solo così, si attiverà l'offerta, di due saponi mani, a 6,95 euro, tra di noi, veloci e veloci, quindi, premio, offerta rapidità, per ordini superiori, ai 120, se siete consiglieri, di bellezza, mi raccomando, arriviamo ai 180 euro, per avere il 28% di sconto, su tutti i prodotti, quindi, inserendo il codice, Y54 67, a 6,95, troveremo il kit viso, anti-età, composto da, alcuni mini, quindi sono mini, vedete, di una settimana, è un tubetto grande, così dura, una settimana, con alcune linee, appunto, da far provare, sia giorno, che notte, perfetto, poi, andiamo avanti, speciali regali, album 12, quindi, per ogni ordine, di qualsiasi importo, effettuato su questo album, il regalo, un set di 5 campioncini, di una novità, trattamento viso, di album 13, della serum vegetale, che si tratta, appunto, di trattamento, rimpolpante, antitolabilità, giorno, nonché, per ordini comprensivi, fino a 89,95, un catalogo di Natale, fino a 179,99, due album di Natale, per ordini comprensivi, da 180,00 a 269,99, quattro album di Natale, perché, adesso, si incomincia, veramente, a parlare di Natale, ho fatto un altro video, nello specifico, andatelo a vedere, perché le anteprime di Natale, ci servono tutte, andatelo a vedere, lo trovate subito, qui sotto, poi, per ordini minimi, di 230,00, euro, non multipli, ovviamente, c'è questo, a sorpresa, il regalo, che è una novità, profumate, tutte da provare, quindi, sono, veramente, tanto, 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 tanto carino, vi invito, veramente, anche, a leggere, il galateo, del profumo, sul fare, un testing, corretto, questa cosa, mi è piaciuto, un sacco, perché, sono, proprio, i consigli, su come utilizzare, i nostri profumi, ovvero, vaporizzare, una distanza, di 20 centimetri, e poi, insomma, ve lo leggete, perché, sennò, diventa un video, che non finisce più, mi piacerebbe, veramente, raccontarvi, un sacco di cose, però, non voglio fare, neanche, un video elefantiaco, quindi, abbiate pietà, allora, ordine, soglie, 270, euro, quindi, troviamo, il set, occhi 1, quindi, primer, occhi fissatori, lo stile, occhi waterproof, nero, 5 cataloghi di Natale, per un totale di valore, di 21, e 85, per ordini minimi, di 380 euro, totale valore dei regali, 44,30, comprensivo di, matita sopracciglia, mascara sopracciglia, 10 cataloghi di Natale, e, ovviamente, il set di prima, ok, quindi, sempre questo, più questo, poi, per ordini di, almeno 500 euro, quindi, labbra, andiamo a vedere, che c'è, la stilo, labbra, 31 rouge, il rossetto, gran rouge, è stato in atto, 15 cataloghi di Natale, più, ovviamente, le pagine precedenti, allora, nei set campioncini, un occhio particolare, anche, ai nuovi campioncini, quindi, prendeteli, i test, ci servono sempre, un sacco, servono per vendere, servono per far provare, i nostri prodotti, quindi, se avete già il resto, ok, però, i set novità, mi raccomando, acquistateli, poi, regalo adesione, regalo adesione, di settembre, quindi, vediamo, regalo adesione, di settembre, vediamo, questo bellissimo set, quindi, lo riceverete, nei vostri ordini, a partire, dal 15 del mese, di ottobre, semplicemente, presentando, un'amica, quindi, nel momento, in cui, questa vostra amica, entra con il codice, e farà, un totale, di, almeno due ordini, quindi, il primo, e un secondo, in totale, di 160 euro, a voi scatterà, in automatico, questo po' di roba, veramente, un sacco di roba, e ci sono alcune novità, del prossimo album, quindi, album 13, ci servono, poi, set formato speciale, quindi, campioncini, anche qui, sono trattamenti, di una settimana, se fate eventi, se fate beaty party, se dovete farli sentire, veramente al mondo, io ve li straconsiglio, ok, e, idem, nella pagina successiva, c'è un errata corrige, a pagina 16, vedete, che i prezzi, sono invertiti, quindi, fate questa segnalazione, sul vostro album, ok, le anteprime di Natale, che ve ne ho ampiamente, parlato in un video, dedicato, che l'ho trovata qua sotto, l'ho già detto, sacchetti, sacchettini, tutto quello, che vi serve, per i vostri, regali, nonché la cintura, portapennelli, l'ombrello, i verosce, il piumino smanicato, il nuovo, kiwi, con vedete, nelle spalle, la scritta, dei 60 anni, della nostra marca, quindi, tutto l'abbigliamento, lavorativo, che ci serve, nonché, la nuova tazza, che vi dico, che questa farà, un figurone, quindi, 2 euro e 50, prezzo netto, quantità piacere, il campionario, eau de parfum, e appunto, tutte le novità, esclusive, riguardanti, i nostri profumi, quindi, lo troviamo, in questi bellissimi set, 8 euro 95, prezzo netto, una, uno per ordine, ok, e poi, il campionario, Donna prestige, quindi, semplicemente, basta sfogliare, il tra di noi, e scegliere, quale materiale, campionario, ci occorre, c'è il kit, campionario, make up viso, quindi, 11 fondotinta, in crema, zero difetti, vi dico, che questo, non c'è spessissimo, quindi, vi consiglio, ovviamente, di fare l'acquisto, la palette, viso, occhi, e labbra, e brochè, per il nostro, campionario, questa qui, molto bella, e per finire, l'unghiometro, che ci serve un sacco, per vendere tantissimi smalti, ve lo straconsiglio, e in fondo, il kit, appunto, viso antietà, che abbiamo trovato, in questa pagina, quindi, pagina proprio all'inizio, dell'album, dove è specificato, che con 120 euro, offerta rapidità, quindi, mi raccomando, è solo valida, dall'11 al 18 di settembre, troviamo, appunto, questo kit, antietà, a un prezzo speciale, solo per noi dedicato, ecco, le spiegazioni, ve le ho date, quindi, tantissime vendite, ci aspettano, sarà un settembre fotonico, quindi, in bocca al lupo, vendiamo veramente il mondo, un abbraccio, dalla vostra respi, ciao! Ciao!